Grazie 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 Buongiorno 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 Geuli Gre sophomore STA Bravo Dai Ocal 미래 Eddo Sì Buongiorno Avello Buongiorno Per me c'è il Rotweiler. Per me c'è qualcuno lì, che è passato. Bello. Bello, bello portiere. Bello. Va bene, dai! Secondo! Allora, secondo! Attenzione! Attenzione! Bravo Filippo! No, mi ha preso sicuramente il salto. Va bene, bravo! Inizia! Allora, filippo! Et cosa sono la linea! Passi all'inizio! Tiens, quando la ballo! Tiro! Vai Filippo, grande, bravo, bravo, vai Filippo, vai Filippo, vai Filippo, vai Filippo, vai Filippo, vai Filippo, vai Filippo. Va bene, va bene. Occhio, filo, filo! Sì! 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 Via! Stato! Aspetta Polo! Vai! No! Va bene! La verità! Bravo Polo! Infatti, come dice la verità... Tienila, tienila Samu! Vai Rosa, eccolo! Vai Rosa! Vai Rosa! Cambiala, cambiala! Cambio! E' il nodo! Bravo Filo! Bravo Filippo! Poi due, non aspetta Filippo. Con il cerebrale era in tasca, mi scuso. Ah, figurati! Ma è quello tipo. Cosa ha preso filo? Grande? Filo? A che ora? Terra! 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 Come sei? C'è quel centro sportivo di San Bobbio che è sempre... Niente! 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 Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!